ma che dormi? dormimo? tu sei uno stronzo grosso con esse come quella della spiegatoria ma perchè? perchè sei uno stronzo? no ma dai che dormi? sei sempre a romperla ma che dormi? riposare gli occhi riposa gli occhi sono stanchi adesso facciamo riposare gli occhi ci vediamo dopo anche perchè dopo c'è l'Inter c'è l'Inter dopo 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 alle sei e mezzo datemi il pronostico di Inter Genoa vediamo chi ci chiappa scrivetemi in DM sono curioso perchè io ci ho in mente una cosa vediamo voi eccoci qua sempre in questo divano si inizia noi ci mettiamo il cuore come sempre tu sei pronto? so pronto sei pronto? so pronto sei pronto? oh voglio affanculo oh Inter Genoa noi siamo qua eccoci forza Inter forza Inter è sempre forte è sempre forte vai 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 per Lukaku per Lukaku oh basta che c'è lupisci lupisce Lukaku che battutone eh Lukaku non c'è c'è lupisci c'è lupisci c'è lupisci Lukaku ci ha lasciato ma noi siamo qua gol 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 chi ha segnato? chi ha segnato? Cocco si chi? oh si chi? mi ripongo chi? ma allora chi ha segnato? chi? si 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 chi ha segnato? si si è venerdì chi ha segnato? scrigno chi ha segnato? scrigno chi ha segnato? vabbè uno no scrigno 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 gol è due è due è due è due è due è due chi ha segnato? ma che cazzo è quello nuovo? chi è? chi è? chi è? cazzo nuovo chi? cazzo nuovo chi? ho il chat di coglione cazzo nuovo d'anticipo la parte di scrigni a thunder c'è bisogno di nooo non ne gliel'ha dato perché? fuori gioco ma di chi? ma non ne so chi era ma tu che stai guardando? eh non non guardavo di lì che guardavi? oh stavo a guardare la maglia la maglia di chi? del cazzo ahahah ahahah del cazzo perché era questa la maglia del cazzo eh è o no? è una f***a ma chi? questa chi è? è una bella sorca ma come come ce l'avrà il pelo? eh è marrone ahahah o no? ma son pelo si ce l'ha il pelo che adesso se pegano tutto diventano come il culo della gallina lì ce l'ho ma il culo della gallina non è lì? c'era il culo della gallina la peluce ahahah ma tu che ne sei? eh beh baciamati ahahah 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 io veramente non ho parole non ho parole voi con la bella sorca eh 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 è febbra ma chi è? di Letta e Leotta su swing diretta ditıca Ok di Leotta vabbè, vabbè è quella da lì Mario Go go in здесь chi ha segnato? Boh ma come Boh? non ne so chi ha segnato Vidal Val am technicians chi ha segnato? Vidal chi ha segnato? il detercivo chi ha segnato? di Vidal chi ha segnato? mamma un culo tu e lui no con l'entiera ribaltante ne fa una ne fa tante eccolo qua Vidal ha fatto un bel gol fa Vidal fa gol grande bel gol ha fatto gol 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 chi ha segnato? Dzeko chi ha segnato? Dzeko chi ha segnato? Dzeko e Baffanculo pure benvenuto Edin salutilo ciao Edin ciao Edin 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 Dzeko oh Baffanculo l'altra volta la faccio in lunga la faccio in lunga la faccio in lunga buona la prima se 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 con pennello tipo il cantante se e l'interno buona la prima ragazzi e via qua che bello la storia di Anna durante la malattia solo all'ospedale mi faceva tanta compagnia grazie con affetto firmato Anna ragazzi che vedevo lì io quando vedo queste cose mi si riempie il cuore quindi grazie a te grazie che oggi l'ho anche incontrata questa ragazza e veramente grazie mille non ho altre parole noi siamo qua e vogliamo bene ragazzi ma non mi ha portato però eh magnerici ma che bacio visto fa un po' ma che bacetto dice il muflone Umbro è tornato incredibile era un po' che non ci vedevamo eccolo qua perché è il compleanno tuo oh non ce l'ho fatta fa la storia tutto impiattato per bene perché eravamo affamati poi il muflone Umbro mangia dormo dormi invece che mania dormo nel somma hai fatto cena alle 11 eh